Possibili irregolarità nella liquidazione da parte del comune di Brindisi di oltre 180.000 euro da versare ai componenti dell'ufficio comune Aro 2 relative all'ultimo quadriennio sono state ravvisate dalla sindaca del capoluogo adriatico Angela Carluccio. La prima cittadina avrebbe infatti notato qualcosa di poco chiaro nel percorso che ha portato all'adozione del provvedimento di liquidazione per il quale ha così avviato un'attività di accertamento. La notizia di quanto accaduto è stata diffusa attraverso una nota stampa partita direttamente dal portavoce della sindaca nella cui nota scrive che la stessa ha provveduto a richiedere una dettagliata relazione in merito al dirigente apicale anticorruzione Giuseppe Alemanno, segretario generale del comune di Brindisi, inviando inoltre tutta la documentazione al collegio dei revisori per le valutazioni del caso e all'esito di queste valutazioni saranno adottati eventuali opportuni provvedimenti. Le impugnate competenze tra l'altro sarebbero già in parte oggetto di un contenzioso giudiziario. Sarà compito ora del dirigente del revisore dei conti chiarire la faccenda o mettere ulteriormente in discussione una situazione che potrebbe per finire in procura.